Grazie a tutti Allo staff Da chi ha creato questa squadra Perché è stata una squadra Che ci ha fatto sognare Fin dall'inizio All'inizio è stata difficile Ma poi ci abbiamo creduto tutti insieme Qua capitani non ce ne sono Siamo tutti capitani E l'ha dimostrato Il fatto Che chi entrava anche dal secondo tempo Poi ha sempre dato tutto È stato un campionato nostro Non c'era un problema Assolutamente sì Ti chiedo Sia a livello personale Che a livello di squadra C'è un momento in cui avete capito Che poteva dover essere vostro campionato Sinceramente no Nel senso che i campionati Non puoi capire Se li vinci o no Li giochi giornata dopo giornata E anche oggi Non era detto che l'avremmo vinto Ma siamo entrati con la testa giusta E alla fine abbiamo avuto ragione Esatto Uno scontro fino alla fine Con l'Atletico Racco Nigi Nelle scorse giornate anche con il Santo Urbano Esci i denti Ti chiedo Qual è stata la partita Che più ti è piaciuta di questo campionato Che ti ha dato qualcosina in più E invece quella che hai sofferto di più Per questo campionato Che però adesso La vivi sicuramente Sicuramente la partita più difficile È stata quella con Trevali all'andata Perché lì abbiamo incontrato una squadra veramente molto preparata Ma quello è stato il segnale Che noi ce la potevamo fare E invece la partita più difficile Proprio dove ho patito tanto È stata quella con Murazzo Perché loro E qua lo dico Perché l'ho promesso a tutti E loro sono venuti contro noi Non per vincere Ma per averci perdere E adesso devono rosicare Non devono neanche metterti il filtro del pelato Ultima cosa Ti chiedo questo La dedichi a qualcuno di particolare a questa vittoria La dedico a tutti i miei compagni Che hanno creduto in me E hanno creduto in se stessi soprattutto Perché è quello che fa Credere in se stessi E alla fine se credi in te stesso ce la fai sempre Grazie mille Prego